ciao cominciamo un nuovo modulo adesso ci sposteremo dal disegno bidimensionale che abbiamo fatto fino ad adesso al disegnare in uno spazio 3d quindi come vi avevo già anticipato da questo momento in poi sarà meglio che abbiate un minimo di basi di blender cerco di dirvi tutto quanto ma non posso ovviamente mischiare tutto questo con un corso base di blender e quindi vi consiglio di partire dal corso che c'è su blender.it oppure le risorse riguardanti blender 2.8 sono tantissime comunque useremo soprattutto funzioni basilari come sposta scala allora da questo momento in poi invece che in 2d animation partiamo in modalità general general è la modalità base di blender nella quale ci troviamo una scena con tre oggetti una telecamera un cubo e una luce in questa scena posso navigare qua in basso a sinistra potete vedere quello che premo se premo il tasto 0 vedo la telecamera se premo f12 faccio un render ed è quello che abbiamo fatto fino ad ora allora come facciamo a tornare nella modalità gris pencil per disegnare dobbiamo creare un oggetto gris pencil in questo momento sulla scena abbiamo un cubo non un oggetto gris pencil la scena è descritta qui qui ci sono tutte le cose che appartengono alla nostra scena come si fa in tutti i tutorial su blender selezioniamo il cubo premiamo la x e cancelliamo il cubo ora il l'oggetto gris pencil lo creiamo e verrà creato come tutti gli oggetti nella posizione in cui si trova il cursore che in questo momento è all'origine maiuscolo a serve ad aggiungere qualcosa alla nostra scena quando siamo in object mode e vedete che c'è un apposita voce gris pencil con tre sottovoci allora blank crea un oggetto gris pencil vuoto stroke crea un oggetto gris pencil con già un segno disegnato monkey crea un oggetto gris pencil con il disegno della classica scimmietta suzanne di blender cominciamo da blank adesso non è successo praticamente niente sulla scena l'unica cosa che è apparsa è un cerchietto che rappresenta l'origine del mio oggetto gris pencil ma posso guardare l'outliner e vedo che ho un oggetto g pencil che è lì pronto io sono in questo momento in object mode per cui posso semplicemente spostarlo scalarlo ma ovviamente non contenendo nulla è una cosa che non ha senso come faccio ad andare a disegnare devo andare in draw mode quindi da quassù se vado in draw mode eccomi qua e adesso come vedete qua ho i pennelli ci sono le cose che avevamo prima e se tracciate dei segni sulla tela ecco qui i miei disegni notate una cosa sono grigi e se mi sposto tra l'altro e disegno posso disegnare in varie posizioni come vedete discuteremo più avanti di come faccio a capire dove viene posizionato il mio disegno ma di sicuro quello che capisco per ora è che spostando la mia visuale posso disegnare su un piano che è parallelo a quello della visuale in questione quindi se vado all'interno per esempio della telecamera e traccio i bordi della telecamera li ricalco posso notare uscendo che ho disegnato un rettangolo che sta sull'origine e che è inclinato esattamente come la telecamera vedete che la telecamera è lì se mi metto di profilo quindi qui e disegno allo stesso modo qualcosa di profilo e mi sposto noto che è stato disegnato lì queste cose le vedremo più avanti ma intanto cerchiamo di capirci prima di tutto perché è tutto grigio e dove sono i materiali se vado nella sezione materiali vedo che è completamente vuota quindi la differenza rispetto a cd animation è che creare un oggetto gris pencil vuoto crea un oggetto gris pencil senza alcun materiale quindi devo prima di tutto creare il primo materiale il primo materiale che creo verrà assegnato a tutti i segni che ho fatto finora come vedete è un materiale con uno stroke nero il solito materiale di default posso ovviamente cambiarlo con quello che voglio e adesso è rosso insomma se voglio colorare con altri materiali devo creare qualche nuovo materiale e allora da questo momento in poi posso colorare con questo materiale e da questa casella scelta posso selezionare come abbiamo sempre fatto i nostri i nostri materiali diversi questo è il l'oggetto gris pencil vuoto se io torno nella modalità object mode e sapete che possiamo farlo anche con control tab object mode ecco qui il mio oggetto gris pencil in questo momento è bordato di arancione perché è selezionato come in blender accade a tutte le cose che vengono selezionate posso appunto cliccare sulle righe dell'oggetto gris pencil e selezionarlo adesso siccome è un oggetto come fosse un oggetto tridimensionale qualsiasi posso applicare per esempio una scala posso spostarlo posso ruotarlo e ho tutte le classiche cose che ho a disposizione in blender per poter modificare gli oggetti quindi scalare rispetto solo a un asse e non a un altro tutto quello che si vuole se andiamo a vedere sotto item come al solito il notiamo che se faccio qualcosa me lo ritrovo qui quindi l'ho spostato e la nuova posizione è indicata qui ma anche la rotazione è indicata qui e la scala quindi se scalo in maniera sproporzionata posso notare che il fattore di scala qua è riportato e quindi allo stesso modo di un oggetto posso facilmente ripristinare tutto con i soliti alt g per ripristinare la posizione alt r per ripristinare la rotazione alt s per ripristinare la scala quindi è un oggetto come tutti gli altri e posso anche duplicarlo ora liberiamoci di questo paio di copie tiro anche da parte questa non sono ancora in object mode quindi posso di nuovo creare un oggetto grease pencil vediamo cos'è stroke stroke crea questo oggetto qui un semplice segno quindi anche qui se adesso vado in draw mode posso continuare ad aggiungere il vantaggio vedete è che ho a disposizione già dei materiali quindi scegliendo stroke mi ritrovo una lista di materiali già pronta con i tre colori fondamentali non è male se si vuole risparmiare un po di tempo e ovviamente sapete che potete facilmente utilizzare la gomma stroke per eliminare i segni oppure come abbiamo fatto altre volte premere la b e trascinare e tutto quanto viene cancellato quindi anche creare un oggetto stroke dopodiché potete tranquillamente cancellare il segno e vi ritrovate dei materiali già pronti questo è un vantaggio riguardo ai materiali attenzione crea uno slot e vado a guardare questa lista vedete che ci sono anche questi due materiali che appartengono a quell'altro oggetto gris pencil a questo qua giù che avevamo fatto quindi la lista dei materiali anche se qui mi trovo in un altro oggetto torno in object mode ci accorgiamo che questo si trova qui e posso selezionarlo scalarlo indipendentemente da quest'altro che si trova qua giù e infatti questo ha un nome di pencil questo è un altro nome si chiama stroke potete facilmente cambiare il nome con un doppio clic e quindi cambiare il nome così oppure come sempre in blender potete premere f2 inserire un nome e il nome cambia vediamo l'ultima voce che è monkey monkey semplicemente crea susanne la scimmietta di blender visualizzata tra l'altro sul piano x z che era il modo nel quale abbiamo disegnato finora nella modalità cd animation se vi ricordate nella modalità cd animation avevamo l'asse y che veniva verso di noi x da sinistra a destra e z in alto in basso e infatti susanne è posizionata in questo modo e a cosa serve beh perché c'è già qualcosa con la quale poter lavorare potete dare un'occhiata per esempio al fatto che qui ci sono già dei materiali pronti e ci si può giochi chiare e vedere come hanno ottenuto certi effetti come vedete le luci se potete provare a vedere come l'hanno costruita per di più e anche con ha già dei layers e come vedete c'è un layer lines e un layer fills adesso voglio discutere con voi un argomento che riguarda proprio i livelli ora torno in object mode sposto un attimo di nuovo susanne vado nella visualizzazione della telecamera ingrandisco un po e creo ancora un nuovo oggetto gris pencil vuoto approfitto dei materiali che ci sono già crea uno slot e seleziono questo materiale grey che serve a riempire dopodiché vado in draw mode e faccio un bel rettangolo grigio di riempimento e ho creato un rettangolo di riempimento questo qui adesso si trova su un certo livello si trova su questo livello che è stato creato e chiamato primitives probabilmente non c'era niente all'inizio comunque insomma adesso vediamo di metterci qualcos'altro continuo a fare degli altri rettangoli solo per capire dove siamo e ora creo un nuovo livello disegno e su quest'altro livello utilizzo un materiale diverso ovviamente devo andare a fargli posto seleziono per esempio questo materiale blu e creo un disegno che posiziono in questo livello adesso permettetemi di scarabocchiare qualcosa velocemente e basta e tanto per capirsi questo disegno si trova sul livello disegno e quest'altro su primitives e se io mi sposto e continuo a disegnare sono sempre sul livello disegno e disegno altre cose qui e poi mi sposto e disegno ancora come vedete se mi metto per esempio in questa posizione e disegno un albero in questa posizione qui adesso sempre degli esempi potete vedere che l'albero non si trova dietro al piano anche quando chiaramente il piano grigio dovrebbe coprirlo quindi se io mi metto qui lo vediamo è qua dietro l'albero come mai il piano grigio non lo copre perché la sovrapposizione in questo momento è data dai livelli se per esempio io spostassi questo primitiv non lo chiamo primitiv ma lo chiamo rettangoli così ci capiamo rettangoli se lo porto verso l'alto vedete adesso i rettangoli coprono sempre il disegno lo coprono sempre anche quando mi ritrovo ad avere il disegno davanti come qui perché perché il livello sta sopra quindi come in un programma di disegno bidimensionale è la posizione dei livelli a determinare chi sta più in alto e non la posizione nello spazio questa cosa può essere modificata qui alla voce strokes stroke depth order è su 2d layers se io scelgo 3d location ecco che ora la posizione la visualizzazione o meno e quindi se gli oggetti si coprono oppure no è dato non dalla posizione dei livelli ma dall'effettiva posizione nello spazio degli oggetti e questo ovviamente è un elemento che dovete sempre tener presente perché cambia moltissimo il discorso se adesso torno in object mode e vado qui su suzanne posso vedere che stroke depth order è su 2d layers se io lo sposto su 3d location ottengo questi glitch questi effetti fastidiosi soprattutto perché gli oggetti condividono esattamente la stessa posizione nello spazio il piano degli occhi il piano di queste pennellate è esattamente uguale quindi non sa esattamente quale mostrare però ricordatevi quindi che nel momento in cui disegnate in tre dimensioni per davvero e quindi non su un unico piano può essere utile impostare la modalità stroke depth order in 3d location perché così si comporta nel modo che probabilmente quello che vorreste e notate tra l'altro che se sono in 3d location posso comunque decidere lo spessore del segno adesso spessore del segno è determinato del workspace significa dal mondo vale a dire che il segno rimane sempre uguale se io mi allontano moltissimo il mio segno diventerà molto sottile come proprio se fosse un oggetto tridimensionale se mi avvicino il mio segno risulterà molto molto grosso proprio quello che mi aspetto da un oggetto 3d però siccome un disegno potrei invece volere un comportamento diverso e vorrei potrei volere che lo spessore del segno rimanga sempre uguale indipendentemente da quanto io sia lontano dal disegno perché in questo modo è più rispettato lo stile della linea ovviamente se mi allontano tantissimo i segni più grossi tendono ad affastellarsi in una maniera illegibile però in alcuni casi può aver senso soprattutto nel caso di disegni al tratto insomma scegliere screen space in questo modo non importa quanto vada vicino al disegno vedete i segni rimangono sempre sottili e anche se vado molto lontano dal mio disegno come vedete anche è una cosa che può essere impostata per ogni oggetto gris pencil in modo diverso quando sono in world space ho anche a disposizione quest'ulteriore voce che è un moltiplicatore per lo spessore quindi in world space posso decidere di alzare questo numero vedete che lo spessore aumenta se lo porto a 10 adesso spessore 10 volte più grosso e siccome sono in world space avvicinandomi lo diventerà sempre di più questo non cambia davvero lo spessore del segno lo spessore del segno è stato determinato quando avete disegnato è un moltiplicatore aggiuntivo che può essere cambiato in qualsiasi momento per regolare al volo per esempio appunto se se susan la guardo da questo angolo le linee nere sono un po troppo grosse potrei decidere di ridurne lo spessore per avere una visualizzazione migliore ovviamente le ombre si sono assottigliate e non funzionano più ricordatevi tra l'altro che lo spessore del segno vale anche in tutte le direzioni è proprio come fosse un tubo diciamo e quindi con lo spessore aumentandolo diminuendolo aumenta e diminuisce anche lo spessore dell'intera forma tranne che dei fill nel senso che i fill rimangono delle zone piatte un'altra cosa da tenere a mente è che se io adesso duplico questo disegno e lo porto leggermente indietro lo porto qui in questo momento avendo scelto stroke depth order come 3d location ovviamente l'omino qua dietro viene coperto comunque insomma come vedete è dipendente dall'oggetto potrei scegliere 3d location per un oggetto e 2d layers per un altro e ottenere anche degli effetti grafici un po strani quindi attenzione a questa voce che è molto importante soprattutto nel momento in cui cominciate a mischiare vari oggetti gris pencil uno sopra l'altro e notate anche tra l'altro che in questo momento questa luce è del tutto inutile anche se la sposto vicino all'oggetto gris pencil non lo illumina nella nuova versione di blender questa cosa è diversa se guardate il video che ho già fatto sulle versioni potete vedere comunque in ogni caso adesso potrei tranquillamente eliminare questa un'ultima cosetta è finora abbiamo avuto lo sfondo bianco spesso quello che vogliamo è lo sfondo bianco nel momento in cui volete disegnare può essere fastidioso ricordatevi sempre che qualsiasi oggetto abbiate selezionato anche senza oggetti selezionati qui c'è la voce world e potete decidere il colore del dello sfondo ma non lo vedrete finché non vi posizionate in questo particolare modalità anzi in questo caso non basta perché bisogna anche premere questo tastino e decidere che volete vedere il scene world cioè il mondo deciso per la scena e non uno standard scelto qui quindi se voi premete sin world in questa modalità ecco che potete facilmente cambiare il colore dello sfondo altrimenti potete selezionare l'ultima delle voci che è la visualizzazione renderizzata che è quella più simile a quello che otterrete quando premete f12 salvo che quando premete f12 lo otterrete visto dalla videocamera e quindi da dove arriviamo quando premiamo 0 quindi siccome io in questo momento la telecamera non l'ho mai spostata non importa da dove guardi la scena premendo f12 la vedo da lì ricordatevi come al solito entrate nella telecamera lock camera to view e da questo momento in poi potete decidere la vostra inquadratura nello spazio e premere f12 e avere rendering da questo punto di vista quindi ricordatevi questo perché in modalità 2d animation ci trovavamo già in questa modalità di rendering invece normalmente blender ci porta qui l'altra cosa è vediamo sempre questo piano per terra ma abbiamo già visto che possiamo eventualmente nascondere tutte le visualizzazioni con questo tasto vedete scompare il piano ma scompare anche il cursore 3d l'origine scompare proprio tutto e quindi nel momento in cui volete disegnare e andate in in draw mode e non volete nessun disturbo potete premere questo adesso in questo momento la tela è bianca e tolgo lo camera to view ingrandisco fino a vedere tutto quanto bianco e posso disegnare facilmente dimenticandomi del fatto che sto utilizzando un programma 3d e posso continuare a disegnare con tranquillità come se avessi una tela e come abbiamo fatto finora torno in object mode e esco dalla telecamera e come vedete quello che ho fatto è tridimensionale insomma abbiamo quindi visto come creare molti oggetti gris pencil possiamo farne quanti ne vogliamo per ognuno di questi possiamo applicare tutte le cose che abbiamo utilizzato finora quindi anche i modifier i filtri e tutto quanto anche in maniera separata uno per uno per cui se sono in object mode adesso ripristino visualizzazioni posso tranquillamente decidere di applicare degli effetti o appunto dei modifiers come abbiamo fatto le altre volte solo che questa volta posso notare di più l'effetto nello spazio tridimensionale di quello che faccio e quindi ho maggiore controllo grazie di avermi seguito fin qui e alla prossima